E per il generale dei Carabinieri Emanuele Santalamacchia Luca Lotti rinviato a giudizio, ex ministro Amico di Renzi, una vergogna La centrale di acquisti della pubblica amministrazione finita sotto inchiesta dalla procura di Napoli per presunte irregolarità nella giudicazione di appalti In questo filone Lotti e Santalamacchia erano già stati rinviati a giudizio insieme all'ex comandante generale dell'arma Tullio del Sette e ad altre due persone Secondo l'accusa Lotti il 3 agosto del 2016 avrebbe rivelato all'allora amministratore delegato di Consip Luigi Marroni l'esistenza di un'indagine penale che interessava i dirigenti della società e lo avrebbe messo in guardia sulle intercettazioni telefoniche che lo riguardavano Santalamacchia invece lo avrebbe informato dell'indagine in corso Affronterò il processo con la serenità di chi sa di raccontare la verità dei fatti ha detto l'ex sottosegretario del governo Renzi Il Renziano Lotti rinviato giudizio Una vergogna Ma andiamogli a casa votiamo noi le decisioni parlamentari per i diritti dei cittadini